ok vedo che sia ok ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video vi volevo dire che una cosa e cioè che adesso porto gli occhiali adesso io porto adesso ci vedo adesso io porto gli occhiali ma volete sapere una cosa adesso me la dico era uno scherzo io non porto gli occhiali non sono anche mi piacciono perché sono rossi sto meglio con gli occhiali o senza occhiali wow gli occhiali ma volete chau chau grazie a tutti